Dopo la torre, il cinema, dal 3 maggio la Fondazione Prada trasforma la sua sala in un vero cinema, attivo a maggio e giugno dal giovedì alla domenica, con 10 proiezioni settimanali, per arrivare a un programma più esteso nei mesi successivi. Ogni giorno, un programma diverso, il giovedì rassegna di film legati alle attività della Fondazione, il venerdì soggettiva, opere scelte da personalità provenienti da ambiti diversi, il sabato indagini, con film inediti e prime visioni, la domenica origine, film restaurati e riproposti. La prima rassegna tematica sarà legata a post-Zang Tum Tum. Art Life Politics, Italia 1918-1943, la mostra curata da Germano Celant che esplora il sistema dell'arte e della cultura in Italia tra le due guerre mondiali. La carrellata di film si apre giovedì 3 maggio, con la proiezione del film Mutu Addio Giovinezza Italia, 1918, di Augusto Gennina con accompagnamento musicale dal vivo eseguito dall'arpista Valeria del Mastro, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La sezione soggettiva sarà inaugurata dall'artista Damien Hirst che ha scelto film come Gli Argonauti di Don Cefi, Willy Wonka e La fabbrica di cioccolato di Mel Stewart, l'esorcista, director scat di William Friedkin, e Razerae di David Lynch. Nella sezione indagine due prime visioni, L'Isola dei Cani, L'ultimo film di Wanderson, orso d'argento al Festival di Berlino 2018 per il migliore regista e a Beautiful Day di Linne Ramsey, premiato al Festival di Cannes nel 2017 per la migliore sceneggiatura e la migliore interpretazione maschile attribuita all'attore protagonista o a Queen Phoenix. Origine, la sezione dedicata ai classici, inizia con la proiezione della versione restaurata di Ultimo Tango a Parigi 1972, di Bernardo Bertolucci, che sarà presentato in anteprima il 6 maggio alla presenza del regista. Copyright Riproduzione riservata Venerdì 27 aprile 2018, ultimo aggiornamento, 14 e 38 Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti